Ufficiopostale.it, è l'Italia che cambia. Cosa avete provato quel 9 novembre dopo il terremoto, quando avete visto la madonnina danneggiata? È un certo momento, perché già eravamo impauriti per la scossa che io ero in chiesa, era stata molto grossa, poi sono uscito fuori, il pensiero mio è andato alle guglie, infatti le guglie sono state messe in sicurezza, sono pericolanti, e poi mi sono accorto che un pezzo della madonna era caduto a terra, era caduto e quindi sono rimasto così, un po' male. Non è facile per padre Marcello Montanari, vicario della parrocchia di San Francesco, ricordare quei momenti del 9 novembre scorso, quando la terra alle 7.07 ha tremato con una scossa di magnitudo 5.7 e non è facile ricordare, dopo la paura della scossa, la vista di alcune parti della madonnina dei cappuccini crollate a terra sul sagrato della chiesa. Parte della nuca e l'aureola, che di notte illuminava l'oscurità, si sono staccate dall'imponente scultura, opera di Luigi Galli che dal 1965 domina con i suoi 4 metri e mezzo di altezza, su un piedistallo di 6 metri, uno dei principali ingressi di Pesaro, un simbolo per la città, diventato tristemente anche un simbolo di quel sisma. Ma giorni inizierà il percorso di rinascita della statua. Lions Club Pesaro della Rovere e Renco hanno risposto all'appello cittadino per il ripristino della madonnina. I lavori, affidati al restauratore Michele Pagani, inizieranno a metà giugno, per concludersi indicativamente a fine mese. Noi come Lions Club Pesaro della Rovere ci siamo attivati sin da subito per capire come poter restituire alla città e ai cittadini questo bel dono, questa immagine, questo simbolo che definisce anche l'ingresso all'interno della nostra città. Quindi per noi è stato importante cercare di trovare il modo di restaurare questo stato.